E' bello a tutti ragazzi, qui adesso tocca che vi parla, siamo qui oggi per un video ragazzi spettacolare Ci teniamo a dirti che non sono il primo che lo sta portando nel canale Ho trovato questa guida da un ragazzo inglese che molto probabilmente metterò il link in descrizione per andarvi a vedere il video originale Per dire, ah ma hai copiato questa persona? No, non ho copiato nessuno Sto solamente traducendo quello che ha scoperto questo ragazzo inglese Ragazzi, come ottenere, sentite tutti, la skin galassia femminile, gratuita, senza andare in centri a smanettare nel Note 9, nel Tab S4 No, no, no ragazzi, ci tenevo anche a precisare che è un tutorial solo ed esclusivamente per il computer Si può fare solo col PC Quindi mi raccomando ragazzi, no Xbox, no Playstation, solo ed esclusivamente per il PC E adesso ci tenevo a dirvi anche un'altra cosa ragazzi Io ho fatto anche dei video su Call of Duty che ultimamente penso che non vi stanno piacendo sul canale Io spero che avrò un supporto grandissimo per quanto riguarda Call of Duty Black Ops 4 Perché sarà il centro, il culmine del mio canale Quindi mi raccomando ragazzi, datevi a vedere tutti quanti i video, non solo quelli di Fortnite Ma, bando alle ciance E let's go, vai col video Ragazzi, rieccoci Allora, siamo nel nostro desktop, quindi siamo su Google Chrome Vi lascerò il link in descrizione Voi cosa dovete fare per prima cosa ragazzi Andate sul mio link, scaricate questo file da 4G48 purtroppo perché contiene tutti i file del gioco Che si chiama Pack Chunk 0 Windows Client Appena lo avete scaricato, lo dovete mettere nel desktop Dopodiché, dovete andare su PC Se avete Windows 10 oppure Windows 7, risorse del computer Disco locale C Program Files Epic Game Fortnite Fortnite Game Content E Packs ragazzi E qui trovate Pack Chunk 0 Windows Client Vedete? È uguale La sigla è uguale, anzi no, questo è .sigla, questo è .pack Ok, questo qui Prendete il file del desktop E lo trascinate in questa cartella Lui dirà, vuoi sostituire tutti i file? E fate sì In modo tale da sostituire appunto il file del gioco Ora Dovete entrare in Fortnite Game Ma Prima ci dobbiamo dirvi una cosa Se Vi siete stufati di usare la stessa skin E dice, è male, ma poi come faccio a ritornare la skin normale Che non mi va più di usarla Ragazzi Basta che voi Entrerete in Epic Games Adesso vi farò vedere cosa dovete fare Allora, un attimo che carica Ok C'è sotto account Dovete andare in questo ingranaggio E andate a fare Cliccare su Verifica In modo tale che lui verifica tutti i file del gioco E vi scarica i file componenti Tra virgolette mancanti Che sono stati sostituiti da questa skin Adesso ragazzi Ci rivediamo direttamente in gioco E vi farò vedere La nuova skin Raga Ok Eccoci ragazzi Siamo nel gioco E adesso vi farò vedere Come Appunto Andare a vedere Se la skin ce l'abbiamo Andiamo sul Locker In questo caso sarebbe Il nostro Armadietto Andiamo sulla skin E andiamo a prendere Questa skin Perché proprio questa skin Perché il ragazzo ha deciso di Sostituire La skin Quella del post battaglia Con il casco E ragazzi 3 2 1 Let's go Mamma mia quanto è bella ragazzi Mamma mia quanto è bella ragazzi Mamma mia Ragazzi save and exit E un'altra cosa ragazzi Questa skin Non è solamente un fattore visivo Che la vedete solamente Nella lobby pre partita Adesso vi farò vedere Che entrando in una partita Entrando in game La skin funziona Vi ricordo ragazzi Di stare attenti Questa Mod Che dovete usare A vostro rischio E pericolo Quindi io non mi assumo Nessuna responsabilità Di ban O cose del genere Anche se Non ci dovrebbe essere Rischio di ban Perché è una cosa Che vedete solamente Voi chi scarica la skin Gli altri vedranno La vostra skin Normalissima Però ragazzi Per trollare le persone È veramente figo E guardate qua ragazzi Siamo in game Che figata questa skin Mamma mia Che figata Mamma Mamma mia Questo Senza andare a Schiare denunce Rischio di andare A sbloccare Galaxy Note 9 Alla fine Fondamentalmente Personalmente Questa skin Mi piace di più Rispetto a quella Maschile Questa femminile Ha qualche tocca in più Non so Non so voi Ma a me piace di più Ragazzi Quindi Che dirvi Per questo video è tutto Mi raccomando Supportatemi nel canale Iscrivetevi al canale Lasciate un bel pollicione in su Condividete il video Con tutti quanti ragazzi Fate scoprire questo Tra virgolette Glitch Questa mod A tutti i vostri amici Mi raccomando Ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi Grazie mille del vostro supporto Bella Ciao 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 Ciao